ciao a tutte e a tutte in questo video vi faccio vedere il mio primo libro sensoriale è stata un po' un'impresa e una pazzia perché ho deciso di regalarlo a una mia amica e ho deciso di farlo oggi e quindi da stamattina fino adesso che sono quasi le 5 del pomeriggio ho iniziato e l'ho terminato è molto basico perché ovviamente il tempo a disposizione è stato poco però sono molto soddisfatta del risultato finale quindi spero di poterne fare altri magari più complessi e per il momento vi mostro quello che ho fatto ciao ciao iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale è 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